La Dietec Trentino inizierà la sua corsa davanti al proprio pubblico alla BLM Group Arena domenica 14 ottobre contro la neopromessa Emma Villas Siena degli ex Fedrizzi e Chiappa. La prima trasferta è programmata sette giorni più tardi a Veroli, nuova casa della Globobanca del Frusinate Sora, seguito subito da quella di Perugia. L'esordio assoluto avverrà in Supercoppa Italiana che per la terza edizione consecutiva adotterà la formula della Final Four da disputare fra sabato 6 e domenica 7 ottobre al Pale Evangelisti di Perugia. La Dietec Trentino affronterà in semifinale i propri padroni di casa. La Regular Season si svilupperà in cinque mesi e mezzo fra il 14 ottobre e il 24 marzo. Un solo turno infrasettimanale previsto il 7 novembre, tenendo conto che nelle altre due occasioni in cui si giocherà di mercoledì il primo novembre in casa con Vibo e il 26 dicembre a Siena, ci si troverà comunque di fronte a giornate festive. Oltre a Santo Stefano, sotto Natale si giocherà anche nel penultimo giorno dell'anno solare, domenica 30 dicembre, in casa con Sora. L'edizione 2019 della Coppa Italia muterà nuovamente la sua formula, tornando a coinvolgere solo le prime otto classificate del girone d'andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo il tredicesimo turno di Regular Season, si giocheranno quindi in gara unica in casa, della migliore classificata mercoledì 23 gennaio 2019. La Final Four si giocherà fra sabato 9 e domenica 10 febbraio. Accederanno ai play-off scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale, al meglio delle tre gare. Semifinali e finali prevedono invece lo svolgimento di cinque partite, prenderanno il via domenica 31 marzo con gara 1 dei quarti di finale e si concluderanno martedì 14 maggio, data eventuale di gara 5.